ciao a tutti amici di marina romea tennis e a chi lo diventerà questa mattina non è il solito video didattico ma vi porto con me in giro per marina romea per scoprire questa località la riviera adriatica meravigliosa ci vediamo tra un pochino di nuovo in campo qua al mio centro tennis ciao a tutti 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 ciao a tutti